parliamo ragazzi con un secondo solo niente raga adesso sto con la console della wii niente sto facendo la tv ecco facciamo un'altra cosa devo provare a mettermi in youtube netflix, infinity, play, web allora vediamo un po' due verticale frutto di tre lettere tenete prigna mi scusi ero in questo adesso abbiamo messo questo vediamo come facciamo la y yo yo aspetta come che ci devo fare allora lo facciamo così un secondo solo raga mi sto incasciando io con la televisione un secondo devo mettere youtube su la tv yo io cazzo un secondo raga troia troia cazzo però mi sto impappinando andiamo qua yo yo un secondo un secondo e poi e poi andiamo su youtube perchè non mi fa youtube qua non so quando raga mi sto incazzando con la tv adesso vuoi spaccare senza ragazzo togliere la tastiera qua allora chiudiamola un attimo ecco qua mi torna di nuovo qua io adesso devo andare sui miei social preferi qua ecco qua preso youtube server non trovato cazzo vuoi andiamo qua chiamala e mando una foto di virginia ai colleghi di bayonne e trovo i testimoni guardi da tu ecco fai gli saluti con il rametto vedrai che si calma subito si piccolo sei carino ma aspetta fammi leggere un momento aspetta un attimo raga che si è tolta la password non me la faccio della password del mio wifi perchè è privata e adesso mi sto vedendo un po' di altri che adesso potrò mettere sulla mia televisione andiamo giù la n ma non riesco a farla non riesco a farla non riesco a farla adesso sono wireless adesso non riesco a farla adesso sono wireless la n dobbiamo andare a piarci eh no eh raga ci metteremo un bel po' per la connessione password che comunque mi sarà un casino Antonio. Vincenzo. Vincenzo è il mio nome forse a me si è scollegato da tutte quelle in tempo che si è staccato e riattaccato alla corrente e riattaccato alla corrente e riattaccato alla corrente. Ma va a fare un culo. Trovava già fanno. no per curare chiamate adesso e mettetevi in contatto per la visita gratuita e senza impegno a casa vostra il nostro consulente di zona dividerà nella scelta della migliore salute per voi e la vostra casa e vi seguirà con un senso post vendita personalizzato un valore aggiunto alla guardiamo un po' hdm che mi apre ma la consola si è spenta automaticamente mi apre la wii l'ho provata solo un secondo io dobbiamo andare su qua dobbiamo guardare da più di 130 anni mi sarebbero ogni riscoltà fate comincia chilo cala una tomita chilo cal preso dopo i vasti aiuto controlla il peso chilo cal oggi è più drenante pura infascia in occasione del cinquantesimo anniversario dal primo allunaggio l'assente presenta quattro appuntamenti per ricordare l'evento straordinario della conquista della nuova lunedì 8 il 15 e il 22 luglio alle 21 15 tre serate con la serie di astronaut wise club in prima visione tv meglio mettermi il wifi come lo devo mettere come mo l'ho messo raga un secondo raga però devo fare sto caccio di guaio per mettermi la mia wifi un secondo raga mi sistemo così ecco sistemato andiamo indietro andiamo a fare di nuovo asciutta anche senza sali d'alluminio tutto merito di l'icia l'icia dell'evolution ha una tecnologia brevettata che regola la sudorazione senza sali d'alluminio per una pelle fresca e asciutta tutto il giorno è proprio vero l'icia dell'evolution efficacia senza sali d'alluminio oggi facciamo spazio alla qualità qui al centro solo 100% carne ed allevamento italiano non ci vediamo la prossima settimana domani ci vediamo il nuovo video quindi al 2021 se lo riesco a passare sul computer è vero molto lo ripasso sul telefonino e lo uso ok grazie a tutti grazie a tutti